C'è una polemica ricorrente che riguarda l'eccessivo numero dei partiti, si dice in Italia ci sono troppi partiti, dobbiamo capirci cosa significa troppi partiti, facciamo un esempio, ci sono due paesi, uno nel quale c'è un partito che prende il 75% dei voti da solo e poi altri 20 partiti che si suddividono il rimanente 25%, dall'altro lato invece abbiamo un paese che ha 3 partiti che grossomodo si dividono il 30-33% ciascuno, qual è il paese con il maggior livello di frammentazione? È evidente che è il secondo, nel primo caso c'è un partito che con il 75% è in grado di governare da solo, è in grado se fossero in Italia addirittura di riformare la Costituzione da solo e gli altri partiti sono scarsamente influenti, se c'è un partito dominante che supera in modo anche cospicuo il 50%, gli altri partiti possono anche essere 40, ma questo non cambia niente, viceversa un sistema politico in cui c'è un numero più limitato di partiti, ma sostanzialmente equivalenti ha molti più problemi, perché deve realizzare delle coalizioni, questo naturalmente se si è in un sistema di tipo parlamentare come quello italiano e non un sistema di tipo presidenziale dove il discorso cambia. Allora si pone il problema, come riusciamo a contenere il numero dei partiti? Questo dipende anche molto dalle situazioni ambientali, se la situazione è quella italiana un'eccessiva semplificazione può risultare negativa, ci sono vari sistemi, un sistema per contenere la frammentazione, lo avete già scelto, è quello del proporzionale rettificato, del proporzionale corretto, ed è stato scelto uno dei mezzi del proporzionale corretto proprio con l'idea di dare più forza al partito di maggioranza relativa ridimensionando, scoraggiando l'eccessiva frammentazione. Ci sono poi altri due sistemi, uno è quello della clausola di sbarramento, per cui tutti i partiti che non raggiungono una certa soglia, che adesso vedremo qual è, non sono ammessi in Parlamento. Poi c'è un altro sistema che è quello dell'ampiezza dei collegi, cioè non si dà luogo a collegio unico nazionale per recuperare i resti di quello che i partiti prendono nelle varie circoscrizioni e si fanno collegi molto piccoli. Nella consultazione qui è emersa l'idea di collegi intermedi, ma intermedio può significare tanto 7, 8 candidati per collegio quanto può significarne 40, 50, 60 e nella Prima Repubblica Milano e Roma superavano i 55 candidati. Quindi ci sono queste due possibilità, la clausola di sbarramento è quella del 5%. In realtà in Italia il 5% è una soglia piuttosto elevata, però potrebbe essere adottata. Prima nella Prima Repubblica c'era una soglia di sbarramento che era quella per la quale era ammesso al riparto dei voti in sede nazionale, il partito che avesse almeno 300 mila voti a livello nazionale è un quotiente pieno in una circoscrizione. Quindi la prima cosa da decidere è se mettere una clausola di sbarramento o meno, la seconda è decidere, adesso magari non entriamo nel dettaglio, se questa soglia di sbarramento deve essere minima, come può essere appunto 300 mila voti a livello nazionale, se deve essere media e quindi possiamo prevedere un 2-3% o un milione di voti per intenderci o se deve essere invece alta. Oppure l'alternativa è quella di collegi piccoli, quindi nessun recupero in sede nazionale e collegi limitati di 6-7 deputati, per cui vengono firmati i partiti più forti e i partiti territorialmente più concentrati. Queste sono le due opzioni base con le sotto-opzioni. Bisogna però tenere presente due cose in questo ragionamento. Già noi abbiamo scelto, o meglio voi avete scelto, il sistema del proporzionale corretto, quindi già c'è un elemento di disrappresentatività. Una correzione ulteriore con una clausola di sbarramento aumenta ulteriormente il livello di disrappresentatività, perché poniamo, ci sono un certo numero di partiti che raccolgono complessivamente il 10% dei voti e non sono rappresentati, quei seggi vengono presi dai partiti più grandi e quindi il Parlamento risulterà ulteriormente disrappresentativo. Quindi nel dosare l'equilibrio generale tenete presente questo aspetto. Ultima questione. I sistemi elettorali devono avere una loro pulizia e trasparenza. Devono essere comprensibili. Non è consigliabile che abbiano troppe eccezioni, clausole. Quindi se c'è per esempio una clausola di sbarramento, è opportuna che sia uguale per tutti. Non si può cominciare a dire no, il 4% se sei da solo, il 2% se sei in coalizione, che era il porcellum, oppure sì c'è la clausola di sbarramento che però non si applica ai partiti che abbiano almeno tre circoscrizioni piene, che significa premiare un partito ben determinato perché è quello che ha maggiore concentrazione locale. Quindi in questo senso io suppongo che sia opportuno tra le opzioni che avevo proposto tenere presente una certa linearità che non preveda eccezioni o ulteriori sottospecificazioni che rendano illegibile poi il testo complessivo. Quindi sostanzialmente il quesito è in tre. Primo nessuna clausola limitativa, secondo una clausola limitativa fissa che può essere appunto il 5% eccetera, oppure collegi relativamente piccoli senza recupero in collegio nazionale. Optando per di una delle due clausole di limitazione bisogna poi decidere se la clausola di sbarramento deve essere minima, poniamo 300 mila voti, media, poniamo un milione di voti, o alta, cioè 5-6%. Oppure nel caso si scelga la formula dei collegi limitati, bisogna decidere se si tratta di una restrizione forte che parla di 6-7 candidati per collegio o se invece optiamo per una formula un po' più larga che per esempio preveda 25-20 deputati per collegio per cui se un partito non ha il 4-5% in una circoscrizione perde tutto in quella circoscrizione, però da qualche altra parte magari ci avrà una percentuale del 4-5% e quindi una parte dei suoi voti riuscirà a utilizzarli.